La sua voce, il suo suono, tornerà a diffondersi dopo anni di silenzio all'interno della Cattedrale di Verona. Stiamo parlando dell'organo del 1909, opera originale di Domenico Farinati, a trasmissione mista meccanica pneumatica posto all'interno della cassa linea cinquecentesca scolpita e dorata che sovrasta la canturia di sinistra della Chiesa Madre di Verona. Un organo che da tempo non poteva essere più suonato, per il quale dal mese di ottobre 2020 erano stati avviati i lavori di restauro che sono stati eseguiti con finanziamento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e condotti dalla Sopraintendenza archeologica Belle Arde e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza su progetto condiviso con la Diocesi di Verona. Un restauro dal costo impegnativo che è riuscito a riportare la bellezza del suono a questo strumento. Venerdì sera per noi è un grande appuntamento perché questo restauro dell'organo Farinati, costruito nel 1919 e che ha suonato nella cattedrale, suonizzando i momenti, credo, di tantissime persone, anche di noi sacerdoti, almeno fino a una certa età, nelle nostre ordinazioni e da alcuni anni muto. Finalmente, grazie all'intervento della Sopraintendenza e di tante altre brave persone, siamo riusciti a restaurarlo con grosso costo e adesso ha di nuovo la voce, può riempire con il suo suono tutta la cattedrale. E venerdì sera alle 17.30 ci sarà questa inaugurazione del restauro, alla presenza del Vescovo, alla presenza del Sovrintendente e anche di tante altre persone che desiderano proprio sentire di nuovo la voce che penso ha emozionato, si dice oggi, la loro vita qualche anno fa.